L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi si è recata oggi presso il nuovo San Giovanni di Dio a Torregalli per visitare alcuni reparti dell'ospedale dove da ottobre scorso si opera anche il sabato mattina. Dopo le due sale operatorie aperte per effettuare interventi di colicistectomia e per gli aneurismi l'assessore si è recata nei reparti di ortopedia e traumatologia. La Regione Toscana ha investito 23 milioni sul progetto di riduzione delle liste d'attesa che prevede operazioni anche il sabato mattina ed esami diagnostici la sera tardi fino a mezzanotte. A inizio novembre 2018 gli aneurismi in lista d'attesa erano 32, a inizio 2019 erano scesi a 11. Nell'intera area fiorentina i casi di colicistectomia in lista d'attesa sono invece passati da 601 del novembre 2018 a 439 ed inizio luglio. L'obiettivo è di portarli a 230 entro la fine dell'anno per garantire tempi di attesa massimi di 90 giorni. Stamattina noi operiamo le colicistectomie per via laparoscopica e abbiamo notevolmente ridotto i tempi d'attesa. Siamo contenti di farlo, è molto meglio per noi venire a lavorare il sabato mattina che sentirsi chiedere dai pazienti che aspettano da tanto tempo, tutte le volte che gli incontri o che ti chiamano Dottore ma quando mi opera? Per noi è più imbarazzante quello non sapere cosa rispondere di che venire il sabato mattina a operare e a dare delle risposte ai bisogni della popolazione. Tant'è vero che adesso ci fanno una domanda diversa, ci chiamano dicendo Dottore mi hanno chiamato, dice mi operano sabato, ma è vero? Dico sì è vero, operiamo anche di sabato. L'abbattimento e le liste di attesa l'abbiamo programmato, ha cominciato a programmare e comincia a dare i suoi effetti anche nella chirurgia, nella piccola chirurgia che facciamo di sabato mattina. Questo è uno degli ospedali, forse l'ospedale che ha cominciato per primo. Funzionano due sale operatorie il sabato, tutti sabato ormai da ottobre per fare la chirurgia programmata, le colicistectomie e gli aneurismi le facciamo di sabato mattina, i chirurghi sono in sala insieme agli infermieri, insieme a tutti gli altri operatori, ai tecnici, il sabato mattina e le liste di attesa cominciano ad essere portate entro tempi, diciamo così, normali. L'assessore Saccardi ha concluso la sua visita ricordando che giovedì 25 alle 22.30 sarà a Santa Maria Nuova per vedere di persona l'attività diagnostica svolta in notturna. Grazie. 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 Grazie.